Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Un cordiale saluto dalla redazione di Luca Viareggio e in Filippili sui rami di Pisa e Livorno. Per il vento forte, i telonati, i fulgonati e i caravans non possono percorrere l'A12 tra Pisa Centro e Rosignano in entrambe le direzioni. Per i treni, traffico sospeso per il maltempo tra Pontassieve e Compiobbi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!